La giornata dedicata al florovivaismo pistaisi da Stefania Saccadi, assessore dell'agricoltura e vicepresidente della regione toscana, si è conclusa visitandone una delle aziende più importanti. La vannuccia e piante, che con 500 ettari dedicati alla produzione e 350 dipendenti, come sottolineato dalla stessa Saccadi, è una delle più significative realtà per il settore a livello europeo. Che rappresenta davvero il florovivaismo a livello internazionale e che è un motore enorme di qualità, di eccellenza, di lavoro, di attenzione anche all'innovazione e al rispetto per l'ambiente. Devo dire, insomma, una struttura di grande eccellenza e quindi concludiamo la giornata dedicata al florovivaismo di quest'area con un'azienda che è davvero forse il fiore all'occhiello, non solo della nostra regione, ma direi del nostro paese. La visita è stata anche occasione per uno scambio di idee con il titolare Vannino Vannucci sul PID, il piano integrato di distretto, con l'annuncio di novità per il florovivaismo pistoyese. Avevamo già la notizia del primo, di quello che è già stato annunciato a dicembre e poi anche tutti gli altri in pratica fino al sesto, cioè praticamente Stefania ci ha appena detto che verranno finanziati tutti, quindi bravissima la nostra assessora all'agricoltura, nonché vicepresidente della regione toscana. Se cresce la filiera, la produzione. Perché i PID sono più faticosi per spendere, come direbbe il dottor Melara, però sono sicuramente un investimento a favore del territorio, non di un'azienda, ma della crescita di un territorio. E' quello che secondo me che conta di più, perché se non cresce il territorio, non cresce la filiera, non serve a niente, perché ci può essere anche l'azienda più grande del mondo, ma se dietro non c'è, se intorno non c'è tutta la, insomma tutte le piccole o medie aziende che contribuiscono.